Da Bolzano con furore, la novità lanciata dal comune Trentino è pronta a invadere le città italiane Si chiama Paratesta Ednato per evitare colpi a chi, per strada, si distrae con lo smartphone mentre cammina Un problema comune a molte realtà. Impossibile. Anche no. Pensateci bene o meglio, fate un giro in centro, e osservate quante persone, passeggiando, restano con gli occhi fissi sul telefono invece di guardare dove mettono i piedi Un'invenzione dalla doppia utilità, da una parte preserva dei colpi, dall'altra sensibilizza rispetto al tema dell'utilizzo del cellulare, sempre più dibattuto quando si parla di sicurezza Il Paratesta è solo la punta del iceberg. La campagna, lanciata da StyleSmart, punta molto più in alto, e mette in campo una serie di azioni rivolte a tutti i cittadini con consigli utili per fare buon uso del telefono Il primo è quello di scegliere il wifi per contribuire a diminuire drasticamente l'inquinamento elettromagnetico con la stessa qualità di navigazione . C'è poi l'invito di spegnere durante la notte il cellulare, o metterlo in modalità aereo per evitare inutili emissioni . Non usare il cellulare durante la guida, il Paratesta sulle strade ancora non c'è, evitare di diventare dei special zombies ma anche utilizzarlo in maniera consapevole perché può diventare uno strumento fondamentale per salvare la vita . Per questo è meglio non lasciarlo a casa, attivare la geolocalizzazione e scaricare l'appware a RU del 112 . Secondo la C in Italia tre incidenti su quattro sono dovuti alla distrazione, che, ogni anno, falcia migliaia di vite . Il rischio legato all'utilizzo degli smartphone per chattare o inviare una faccina sembra non essere percepito adeguatamente dagli automobilisti . Ad oggi per la guida con il telefonino in mano è prevista la sanzione di 161 euro e la perdita di 5 punti della patente . In caso di recidiva entro due anni, cioè di ripetizione della stessa infrazione, scatta la sospensione della patente da uno a tre mesi . Punto per sensibilizzare gli automobilisti sul pericolo rappresentato dall'utilizzo del telefonino in automobile negli anni scorsi era stata presentata la nuova campagna della BMW, Coverio Ulfone ovvero copri il tuo telefono, con protagonista il pilota Alex Zanardi .